che vede un Genoa che chiude bene la Lazio e riparte quando c'è lo spazio per farlo il Genoa che però viene qui fermato dall'assistente di Paolo Silvio Mazzolini di Bergamo si tratta di Giuseppe De Santis che annulla un gol regolarissimo del Genoa Van den Boer che va a fare l'assist era in posizione regolare così come Milito era dopo una chiusura sbagliata di Dabo, palla che finisce dalle parti di Sculli Lichsteiner va a sgambettarlo ed è calcio di rigore timidissime se ci sono state le proteste dei difensori della Lazio sul dischetto va Milito contro il connazionale Carrizo sbaglia completamente la misura del suo destro, ne aveva segnati 4 su 4 con il Genoa dal dischetto quest'anno Milito, stavolta sbaglia, palla che finisce sopra la traversa e poi la disperazione la destra, uscita sporca di Carrizo sul cross dell'ex Juventino poi Mesto va a pennellare questo pallone proprio per Diego Milito che stavolta non può sbagliare gol numero 11 in questo campionato per il capocannoniere della Serie A sesto pensate nelle ultime 4 partite Delio Rossi dopo il vantaggio